Ehi, lo lascio qui, ok, non dormite dopo, tieni questo, verso di me, posizione, verso di me, si, così, hop, 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 sexy, ok, una, due, tre, mi lancia la parola, basta! Vorrei dire che non è che lì, non va bene, ok, quando lancia, no, no, ha successo tanti volte, quindi, si spiace, uno, due, tre, bello, alto, così, and, ok, proviamo, una prova, poi facciamo, ok, hop, uno, due, tre, Ahahahah! Oh, d'accordo, come lo trovo? No, no... Uno, due tre, una cinta, ok? Ragazzi, questa parte è spettata con una sola mezzola, ok? Uno due tre, poi, non c'è. Più su, ok? Non vedi, non vedi, è colpo mio, ok? Lo scherzo lei, ok? Uno due tre! Eh, buonissimo, un applauso. Allora, tanto applauso per il mio spettacolo. Ok, per lo vero, tutti voi insieme, fiediamo un po' di entusiasmo, uno, due, tre, insieme. Uno! Tutti, non solo bambini rubriati, eh? Tutti, anche te indietro, se facciamo tutti insieme nessuno senti stupido. Vai! Uno, due, tre! Gravissimi! Il prossimo anno lo facciamo fino a qua. Ok, Silvia! Sei pronta? Ok. Dopo le tre. Uno, due, due, tre. Dopo le tre, mi lancio come prima. Tieni, stai fermo, stai fisso, non sposti il muscolo, posizione sexy, perfetto. Dopo queste cinquecento persone, pure uno, due, tre, mi lancio la trama. Hai capito? Stai fermo! Buono! Insieme! Molte volte vai! Uno! Due! Tre! Un! 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 Un!